Il Presidente della Camera di Commercio di Bari, nonché della NUCO, Alessandro Ambrosi, ha definito questa Fiera di Levante, questa iniziativa che ogni anno si ripete, come il termometro dell'economia del territorio. Lo vedremo, sicuramente lo è sempre stata e penso che sia un'occasione anche quella dell'inaugurazione importante per ascoltare che idea ha questo nuovo governo sul mezzogiorno. Certamente la Fiera di Levante rappresenta un appuntamento di riapertura del dibattito politico e di riflessione sul futuro, in modo particolare, delle politiche del mezzogiorno. Quindi sono molto curioso di ascoltare l'intervento del Presidente del Consiglio e di capire quali sono le posizioni, anche se per stare alla Puglia mi sembra che in questi giorni siano emergendo delle contraddizioni abbastanza nette. Parola chiave, innovazione, ma anche tradizione. Sicuramente, penso che siano due parole dentro le quali ci sia una lunga storia di questa Fiera di Levante che ha sempre avuto la capacità però di innovarsi e di cogliere i momenti di cambiamento.